Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovo video oggi vi voglio far vedere come è possibile caricare i video su youtube anche se avete una connessione molto molto lenta, tipo la mia e non volete tenere acceso il vostro computer, magari per diverse ore andremo ad utilizzare o un tablet, come questo qui o anche un cellulare, android, uno qualsiasi, diciamo che va bene il procedimento è veramente molto semplice andiamo a collegare il tablet al computer e andremo a trasferire all'interno della memoria che dovrà essere chiaramente sufficientemente libera il video che vogliamo andare a caricare una volta fatto ciò sarà sufficiente andare ad aprire l'applicazione youtube sul nostro dispositivo e mediante la funzione carica sarà possibile andare a selezionare il filmato che abbiamo precedentemente inserito col pc e caricarlo sul nostro canale youtube non preoccupiamoci non è necessario andare a inserire tutti i dettagli subito perché una volta caricato sarà salvato come bozza e sarà possibile andare a modificarlo tramite il creator studio di youtube stesso una volta fatto tutte le modifiche andremo a pubblicarlo e via se il video ti è piaciuto di nuovo lascia un like iscriviti e fammelo sapere nei commenti ciao alla prossima